E' operativo il tavolo tecnico voluto dall'assessore ai servizi sociali di Milazzo, Simone Magistri, per la definizione del protocollo finalizzato alla presa in carico socio-sanitaria delle famiglie esposte a vulnerabilità sociali. L'istituzione del tavolo mira infatti all'elaborazione delle linee di indirizzo delle politiche sul sistema degli interventi e dei servizi sociali e sanitari per armonizzare la risposta alle complesse esigenze dei beneficiari. A questo scopo si intende cooperare per costituire strumenti operativi che orientino le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro per assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. L'auspicio è che tale percorso possa essere esteso anche ai minori stranieri non accompagnati, inserita all'interno del progetto SAIS-PRAR attivo ormai da diversi anni nel comune di Milazzo e di recente rinnovato. da questioni sociali a quelle prettamente economico-finanziarie. I Galtirreno e Oli ha consegnato ieri a quattro aziende oliane e ad una di Santa Lucia del Mela i decreti di finanziamento per oltre 445 mila euro. Due beneficiari sono nel comune di Malfa, nell'isola di Salina, e due nel comune di Lipari, una a Filicudi e un'altra nell'isola di Vulcano. Saranno realizzate tre iniziative di agriturismo e una innovativa su una fattoria sociale, interventi che contribuiscono alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche del territorio e dei prodotti tipici di eccellenza dell'agricoltura locale. Prossimamente è stata annunciata la consegna di altri 11 decreti per un totale di 880 mila euro.